Buonasera, buonasera, allora non so se lo sapete ma io sono anche un appassionato di stampa del dia, appassionato, stampicchio qualche cosa ogni tanto, no? Allora, qualche anno che ho questa stampante, una Longer LK2, sono soddisfatto, funziona bene. L'unica cosa è che ogni volta che stampo, questo che stampo magari una volta ogni 15-20 giorni, una volta al mese, è che c'è ogni volta da rifare la calibrazione del piatto. Allora, mi sono finalmente deciso e ho comprato questo kit. Questo kit cos'è? È un kit per installare un sensore BL Touch. Teniamo fuori. Cos'è il sensore BL Touch? È questo sensore qui. Allora, normalmente le stampanti 3D hanno questo qui. Questo qui è un fine corsa, vedete qui c'è un interruttorino, questo è il connettore, questo è l'interruttorino. E quando arriva, diciamo, a zero, l'interruttorino scatta, ora ve lo faccio vedere. E la stampante, vedete, vedete, l'interruttorino sta su e quando scende, questa qui è la vite dell'asse Z verticale, quando scende la stampante, scende, 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 fino a quando non arriva a zero, schiaccia l'interruttorino. E la stampante capisce di essere arrivata al livello. Solo che, se il piatto non è perfettamente liscio, e beh, tra la parte sinistra e quella destra, la parte avanti e quella dietro, possiamo avere delle differenze. Ora, installando questo qui, il sensore BL Touch, o 3D Touch, questa è una versione compatibile, e facendo alcune modifiche software, la stampante prenderà vari punti di liberazione sul piano. Farà una mappa 3D del piano, e riuscirà per cui a stampare adattandosi al piano di lavoro. Per cui, se anche il piano non è perfettamente dritto, lei, saprà, per esempio, che qui il piano è un decimo di millimetro più alto, stamperà un po' più in su, qui scenderà, qui salirà, e riuscirà a ricopiare perfettamente anche le più piccole imperfezioni del piano di stampa. Ora vi faccio vedere come si installa, perché è abbastanza semplice. Allora, sulla mia stampante, questo kit che ho preso non è perfetto, per cui c'è questo supporto in metallo, che si va bene, perché è della forma giusta, ma i fuori non concitano. Vedete qui il foro, questo qui, ci sarebbe dovuto essere un foro qui, e uno, ops, lì sotto. Per cui, la cosa è semplice, posiziono il pezzo, e con un punteruolo mi vado a segnare i due punti dove fare i fori per installarlo. Ora faccio i buchini, faccio i segni, faccio i buchi, e ci metto le viti. Come potete vedere, ho fatto i due segni, per cui uno qui e uno qui, che siete un po' di meno, ma c'è, questo qua. E ora col trapano faccio i buchi e metterò due viti. Allora, ho fatto i buchi da due millimetri, uno qui e uno qui, adesso sto usando delle viti a metallo, cioè col passo fine, per fare la filettatura. Basta spingere e avvitare. Tanto questo qui blu è alluminio, questo è acciaio, per cui lui si filetterà, mentre lui non si rovinerà. Io ho queste viti qua, trovate penso in qualche hard disk, qualcosa così, sono due viti piccoline e che fanno il lavoro loro, insomma, riusciranno a tenere il mio pezzo, questo qui, bloccato e fermo. Per cui, il buco questo qui da due millimetri, la testa penso sia da, lo dico subito, quanto è la testa? Da? Da tre. Da tre millimetri, per cui una testa da tre e mezzo bloccherà bene. Ed ecco fatto, il supporto è installato. Ora devo rimontare, questo qui, con le ventoline, e niente, e poi comincio a installare il sensore. Ed ecco fatto, ho installato il supporto della ventola e il nuovo supporto per il sensore. Ora mettiamo il sensore, che è dato con queste viti che sono messo ai normi. Se ho qualcosa di più corto, perché lo scrivo, semplicemente esagerate, cioè, qui basterebbe una roba da... Da quanto? 4 millimetri, ops, scusate. Aspettate. Un po' a fuoco, sì, ecco. Da 4 millimetri, invece, ci hanno messo una roba da, non lo so, da 5, da 2-3 centimetri. Allora, nel mio stock di viti ho trovato queste vitarelle qui. E vedete che vanno proprio perfettamente, perché questa parte qui è filettata. Per cui ho messo il cavo, ora installerò il sensore con le viti, e niente, funziona perfettamente, e le viti stanno veramente a filo. Faccio vedere adesso il risultato finale. Ed ecco fatto. Il sensore è perfettamente installato. Se uno vuole, ma proprio a volerlo, potrebbe mettere sopra i dadini. Ma, secondo me, non servono già. Questo è vitato bene. Ha le brutte, se uno vuole, magari una goccina di colla o di loctite, per non farla svitare, ma, secondo me, non si svita. Dunque, da vedere col tempo. Il sensore è collegato col suo cavo. Ora facciamo passare i cavi dentro la guaina. E poi ci cominciamo a smontare qui sotto per collegarli. Allora, adesso sto facendo passare il cavo del sensore dentro la guaina, dentro il curvugatino, perché poi deve andare fino al blocco qui sotto, dove c'è il controllo. Per cui, ho staccato le fascettine, sto rimettendo il cavo dentro, poi rimetterò le fascettine e me lo porto fino lì sotto. Poi, c'è anche un'altra cosa da fare, cioè da smontare il vecchio sensore, io ho svitato già la vite, e questo è il sensore di profondità. Cioè, l'asse 0 va tolto, perché sarà sostituito da questo qui. Ok, il filo è praticamente passato, ora svito le due vitine che bloccano la griglia di protezione del controller. Così andiamo a accedere, avremo accesso alla parte elettronica per poter fare le nostre connessioni. Ed eccoci qua, dopo aver tolto le quattro viti, abbiamo accesso alla parte che ci interessa. La prima cosa da fare è eliminare il sensore dell'asse Z. Seguiamo il cavo e lo togliamo. E questo qui, c'è anche scritto sopra Z, su questa piccola fascetta, e lo togliamo. Ecco fatto. Ora dovremmo procedere al collegamento di questi due cavi, dopo aver fatto una piccola modifica. Adesso, allora, un step molto importante. Guardate bene la pedinatura del connettore. Il verde è il ground e il giallo è il 5V. Il bianco è il segnale, mentre il nero è di nuovo il ground e il rosso è il positivo dello Z, cioè del fine corsa dell'asse verticale. Sapendo questo, noi ci andiamo adesso. Andiamo qui. Allora, il nostro connettore, questo qui, è il connettore dell'asse Z, lo rimettiamo dove abbiamo tolto quello vecchio. E infatti il connettore poi c'è la stessa forma. Questo qui non importa il senso, perché tanto non... Non c'è differenza tra positivo e negativo, per cui lo rimettiamo a rimettere dove abbiamo tolto il vecchio connettore. Qua. Invece, è più importante, molto molto importante, questo connettore qui. Ora, su questo connettore qui, noi dobbiamo avere, nell'ordine, partendo da sinistra, il ground, 5V e PWM. Ora, come abbiamo visto qui, il ground è il verde. Ora, come vedete, questo connettore, il verde è stato messo invece al centro. Ora noi, premendo su questa linguettina qui, questa qui al centro, dovremmo tirare fuori i connettori e metterli nell'ordine, appunto, ground, 5V, PWM. Ecco fatto, ho rifatto il connettore. Allora, ovviamente ho scoperto che è molto più facile alzare queste parti nere, queste linguette qui, si alza con un cacciavitino piccolo. E si riesce a togliere il connettore facilmente. Ora, noi tra il bianco e il giallo, ovvero tra il PWM e i 5V, dobbiamo mettere una resistenza da 100K o da 50K. Ora, semplicemente, io la metterò così, incastrata così, tanto questo qui non è qualcosa che si muove. Ora la mette e vi faccio vedere. Ecco la nostra resistenza installata. Adesso, un giro di scotch per bloccarla e siamo a posto. Ed ecco terminata l'installazione. Ricordiamoci che il verde è la terra, il ground, e va messo a sinistra. Questo è il connettore dell'LCD, per cui il verde mettetelo a sinistra. Se volete potete bloccare con un po' di colla a caldo, in modo che non si muova. Ora, non ci resta che rimettere il coperchietto e installare il nuovo firmware. Allora, adesso dobbiamo connettere il nostro sensore di altezza, quello che prima era lo Z. Lo connettiamo dove era connesso l'altro. L'unico problema è che qui i cavi sono invertiti. Io dovrei avere il nero a destra, il nero dovrebbe stare sulla parte esterna della scheda, e il rosso nella parte interna. Per cui schiaccio le due clips argentate e inverto i cavi. Ok, cavi invertiti. Mettiamo lo spinotto, siamo a posto e continuiamo con i collegamenti. Allora, l'ultima cosa che c'è da fare è copiare questi due file, vi metto il link in descrizione, sulla carta SD. Li copiate, li mettete nella stampante, riavviate la stampante, la stampante è accesa, mettete la scheda, spegnete, riavviate, qui vedrete due barri di progresso, e la stampante si riaccende. Ora, se andiamo dentro Leveling e facciamo la Home, vediamo cosa fa. Fa uscire il suo sensore. E fa l'Home al centro. Ora riprova, per maggior precisione. Ed ecco fatto. E così possiamo avere lo zero. Ora, dobbiamo fare ancora la calibrazione, per dire a che altezza lo zero corrisponde con lo zero della testina. Lo faccio e vi faccio vedere come si fa. Dunque, dopo aver reinstallato il sensore, collegate il cavetto USB al computer e lanciate il software che si chiama... Printerface, poi vi metterò le istruzioni qui. Ci sono questi comandi qui da fare. Qui, puoi semplicemente copiarli. Ogni volta fate copia. Control C. Poi andate dentro il software. Dentro il software, per tutto fate... Connect, per connettervi alla stampante. Qui vi dirà connessione in corso. Se non ve la fa, qui cambiate la porta, perché forse non è la gomma 1, ma forse è la gomma 3. Fate di nuovo Connect. Ed ecco, vedete. Vigile che adesso è online. Dipende da quale com ci avete. Qui sotto, in basso, mettete i comandi. Control V. Invio. Il comando è inviato alla stampante. E la stampante farà quello che gli stavo detto. Ora gli ho detto di fare homing, però vabbè, l'aveva già fatto. Poi G28, per cui facciamo un alt-humb. Anche qui, altra volta, G28. Adesso vede, fa la home dei vari assi, come indicato anche nel manuale. Anche nelle istruzioni. Ora ci potremo inviare questo G1 F60 Z0, che serve per abbassare l'asse Z fino all'origine. Per cui sempre CTRL C, ALT, TAB, per cambiare software e CTRL V. Vedete chi ha mandato l'istruzione. Ora vedete che si sta abbassando piano piano. Per mettersi a livello dello 0, cioè lui ha fatto la home, ma adesso si ripete a livello di 0, ok? A livello di riposo. Al TAB, ripetiamo le istruzioni. Facciamo un M211S0 per disattivare la protezione. Perché questo comando evita, cioè, questo comando sarebbe per mettere al... Vedete, abbiamo tolto l'endstop, per cui lui può scendere sotto gli... Adesso lui pensa adesso di stare a 0, perché diciamo che non può andare sotto. Perché vorrebbe dire andare sotto il piano di stampa. Con questo parametro qui, diciamo che può andare sotto il piano di stampa. Perché facciamo questo? Perché adesso... Adesso dobbiamo mettere un pezzo di carta. Se ci avete, se no ho anche uno spessino. Non so, prendete un pezzo di carta. Lo mettete sotto. Il pezzo di carta di dato fa 0, 0. Lo mettete un pezzo di carta. E cosa fate? Adesso scendiamo piano piano con il... Con il software. Con questo qui. Vedete, qui avete questo Z. 10 vuol dire che scende di 1 centimetro. 1, 1 millimetro. 0, 1 vuol dire che scende di 0,1 millimetro. Ora scendiamo. Qui, vedi, questi qui sono i valori impodiosi. Così sale. Mentre così scende. Per cui se vogliamo scendere di 0,1 millimetro, clicchiamo qui. Di 1 millimetro qui, di 1 centimetro qui. Clicchiamo qui. Adesso guardate, vi faccio vedere. Cliccando lì, guardate. È sceso di 1 millimetro. Ora, un millimetro è abbastanza per la prima volta, nel mio caso. Scendiamo di 0,1 millimetri. E vediamo se il foglio si muove liberamente ancora. Adesso riclicco di nuovo. Scendiamo ancora un altro po'. E vedo, ecco, il foglio adesso invece è preso. Ora, risalvo di 0,1 millimetro. E il foglio va bene. Per cui, ora vedo però che... No, niente. Ma mi sembrava ci fosse un po' di... Un po' di... Come dire, di... Di filamento che usciva. Ma invece no. Diciamo che, tra questo qui, in cui il foglio usciva bene, e invece lo scende di 0,1, in cui il foglio è molto bloccato, preferisco questo. Perché che succede? Quindi, qui mi segno il... Aspettate. Privado di nuovo qui. E cosa faccio? Adesso faccio questo comando qui, il M114. Me lo copio. Questo comando qui mi dirà la posizione attuale. E la vedete qui. E questa qui, Z-1.1. Ovvero, sono sceso di 1,1 millimetri. Ora cosa faccio? Andiamo qui e prendiamo questo nuovo comando, ovvero, l'M851Z. Andiamo qui dentro. Questo comando qui, cosa ci mettiamo qui dentro? È Z. Vedi, Z. E mettiamo il valore che abbiamo preso qui. Il valore di prima. Per cui, Z-1.1. Invio. Abbiamo detto alla stampante di registrare che, rispetto al valore di prima di 0, in verità lo 0, adesso gli facciamo salvare la nuova posizione, il nuovo 0. Adesso lui sa che veramente il nostro primo di stampa sta a 1,1 millimetri in meno di quello che pensava prima. Quindi lui adesso conosce la nuova posizione. Facciamo l'M500 per salvare. Evidentemente i comandi potete farli anche a mano. Cioè, qui bisogna fare M500, potete semplicemente fare M500, invio. E infatti l'ha salvato. Dopodiché, se andiamo, scusate, facciamo il comando qui, questo comando qui che serve per riattivare il L'MSTOP, ovvero per evitare che il piano possa andare sotto lo 0. Però, vedete, abbiamo riattivato l'MSTOP, ovvero è su lui il piano di stampa. Per finire, ci prendiamo questo comando qui, per vedere se è tutto a posto. Andiamo un po'. Sì, possiamo usare anche, volendo, ha fatto homing, possiamo usare anche questo sistema qui, semplicemente facendo così, leveling, o scusate, leveling. Sto facendo leveling. Rifacciamo, perché si vede che, ecco fatto, ok, sto facendo un nuovo, perché si vede che non aveva preso rispetto al comando che vi avevo mandato prima. Ed ecco fatto. E come vedete, adesso, trovo praticamente, forse è un po' difficile da vederlo, comunque, veramente, c'è stato un piccolissimo spazio, ovvero di 0,1 mm, tra la testa d'impressione e il piano di stampa. Per cui la calibrazione sarà fatta correttamente, non vi resta che iniziare a stampare, dovete fare anche un'altra cosa, effettivamente, mi sono dimenticato, ovvero, modificare il G-code iniziale con questo qui, ve lo metto in descrizione, e lo metterete dentro cura, dentro i parametri di inizio stampa, così lui, all'inizio di ogni stampa, farà la calibrazione e farà ogni stampa perfetta. Spero che il video vi sia stato utile, stampate, stampate interdita, stampate interdita, secondo me è molto utile, permette di fare tante cose o tanti progetti utili, tante cose interessanti, e sparmiare anche dei soldi stampando dei pezzi che possono essere utili per riparare degli oggetti. Un abbraccio, un saluto e al prossimo video, ciao!